La grande operazione di ricerca di Ana Maria Enao, la statunitense scomparsa a Cogolo del Cengio, restano sospese, ma l'indagine è tutt'altro che conclusa. Per due giorni, a ridosso del terzo tornante della vecchia strada del costo, una cinquantina di uomini hanno setacciato palmo a palmo la zona nel raggio di 300 metri. Polizia italiana e spagnola, vigili del fuoco, un intacinofile del soccorso alpino e un rappresentante della FBI americana hanno cercato riscontri riguardo ad una segnalazione GPS di un'auto noleggiata e condotta dal marito proprio da queste parti. L'uomo di origini serbe, arrestato e in carcere in Florida, è accusato di sequestro di persona della donna da cui stava divorziando. In ballo c'era il patrimonio miliardario da spartire. La donna invece ha fatto perdere le proprie tracce a febbraio a Madrid, in Spagna. Il sospetto degli inquirenti americani è che l'uomo abbia rapito e ucciso la donna, trasportando il corpo dalla Spagna in Serbia con un'auto a noleggio, transitando proprio anche nel Vicentino. L'uomo avrebbe potuto già disfarsi del cadavere da queste parti dopo averlo occultato in una valigia. Potrebbe essere nascosto tra gli anfratti della zona boschiva isolata. Al momento vige il massimo riservo delle autorità sullo sviluppo delle indagini di questo giallo internazionale.